Ciao ragazzi sono Karnan, benvenuti su Execo Ufficial per questo nuovo video Vi chiedo da subito scusa se la mia voce non è pimpante, insomma non è al massimo, è un po' bassa ma L'ho persa diciamo tutta insieme di botto con il cucchiaio, insomma lo scavetto, la magia dei totti ragazzi C'è stato un vuoto assurdo che in parte è partito insomma dalla mia voce Quindi ragazzi non capita tutti i giorni del resto di vedere certe cose E poi sto registrando questo video ad ora tarda del giorno oramai Ora tarda vabbè, oramai abbiamo solo parlato alla mezzanotte quindi siamo al 2 di ottobre Però sarebbe l'ora tarda del primo di ottobre E quindi insomma se non mi sentite, ah ciao ragazzi vi spacco a tutti e ho dato uno in uno ma ben due motivi Perché sto registrando il video più tardi del solido che poi non è sempre vero Ma comunque ho voluto testare a fondo per le possibilità insomma che erano la patch Ok ragazzi perché oggi parliamo di questa patch Vi dico da subito nonostante ci abbia perso un po' di tempo non sarà un video chissà come articolato Molto dettagliato sarà semplicemente un video di prime impressioni Tanto nei giorni a seguire non vi preoccupate farò per quelli insomma che se preoccupano Quelli che vogliono il dettaglio e tutto quanto farò dei video dedicati proprio alla patch Per spiegarvi le mie sensazioni non solo per dirvi nel dettaglio che cosa è cambiato Quindi cose nel concreto quindi armi, loadout, recoil e magari vi do qualche dritta Allora intanto mi sono piaciuti i vostri commenti nel senso che sono molto discordanti Cioè a chi piace tantissimo e a chi dice che è una mezza ciovega Allora andrei subito al suodo I due cambiamenti enormi ragazzi lo sappiamo quali sono Il movimento del PG e il famoso recoil, il visual recoil no? Ok quindi il fatto che quando andiamo a sparare l'arma non rincula più come prima Non abbiamo il dot che fa da scheggia impazzita Adesso io archivierei molto in fretta ragazzi se siete d'accordo con me il discorso di come si muove sto benedetto PG Tanto voglio dire raga lì ho degli occhi veramente fotrati di prosciutto Se no se ne accorge pure un cieco che il PG è più fluido, è più veloce, è più scantante nei movimenti Mi ha fatto ridere Diz perché non lo conosce è un mio teammate di Battlefield 4 Avete visto pure qualche clip recente sua E che mi ha detto, io ho detto allora Diz com'è sta pace? Mi fa, au Gernan mi riesco a fare cose stupende Mi sembra un ballerino mo il soldato In effetti è così Quindi però qua c'è poco da dire insomma Voglio dire, si muove meglio Riuscite soprattutto a fare dei movimenti di buomo a basso e scatto in fretta Ed è sicuramente qualcosa che avvantaggia chi sa usare bene No? Se siamo capiti il bust Spero che non usiate le freccette Quanto invece a Recoil che è la parte più importante ragazzi Devo dare ragione a tante persone nel senso Molti dicono, cacchio ma ci vogliono 8000 hit per killare le persone Non va bene Allora in realtà questa sensazione che avete Non è una sensazione, questa realtà che vi ritrovate Insomma che vi arriva addosso quando giocate È di pesa non solamente dal fattore che ragazzi ci vuole un hit in più per killare l'avversario Perché sì, le armi fanno meno danno Adesso non sono uscite ancora le statistiche di Simtic Quindi io non mi pronuncio i numeri e cose strane Non voglio dire i numeri dell'otto Però diciamo che sono più basse Quanto meno serve un colpo in più per killare l'avversario Con tutte le armi, relativamente a tutte le armi Quindi con lo scaracca ne servivano 3 Da vicino adesso ne servono 4 Magari lo lasciate 2% di vita Ma così è, non vi bastano quei 4-5 colpi per killare l'avversario Non è di peso solamente da questo fattore ragazzi Diciamo il discorso che vi ci vogliano troppe hit per killare l'avversario Ma anche siete ingannati da questo visual recoil che avete adesso sull'arma Cioè, l'idea che quel dot è fermo Perché è molto solidale, è molto inchiodato Anche quando sparate tanti colpi Vi fa credere che voi li state mettendo tutti lì In realtà, vedete una notizia Lo spread non è cambiato ragazzi È come prima È esattamente identico a prima Ed è tanto Solamente che adesso fate molta più fatica a vederlo Tant'è che io ho fatto un esercizio per abituarmi a questa patch Adesso che c'erano molti più server rispetto al CTE E si poteva giocare insomma massivamente Semplicemente sono andato a togliere Diciamo, vabbè, togliere il fatto che scala il FOV quando miriamo In realtà potete fare un esercizio molto semplice Andate ad abbassare il FOV di botto Che ne so, giocate a 90 di FOV Fatevi qualche partita a 70 Questo a che cosa serve? Vedrete praticamente che la visuale sarà più vicina Quindi avrete una percezione molto maggiore di dove state sparando E di dove vanno i colpi Vi renderete conto che non è cambiato niente rispetto a prima Cioè avete un DOT molto più piccolo Perché sapete che i DOT dei mirini sono cambiati L'arma è praticamente ferma, ok? Col minimo sforzo Cioè se tirate giù un basso il mouse O comunque la levetta del vostro joypad Però vedete sti colpi che gli vanno attorno Non sono così precisi Quindi togliete proprio dalla testa E il fatto che se il DOT è fermo I colpi vanno tutti là No, col cacchio Prima diciamo il DOT si muoveva E quindi quando stava dappertutto Tranne che non al centro Voi dicevate Vabbè non li sto mettendo sul bersaglio Adesso è fermo Ma i ragazzi I colpi non vanno sempre lì Quindi dovete comunque barstare Dovete comunque fare tap firing Se tirate una fullata a uno E il mirino è perfettamente immobile E comunque state sparando un cono dei proiettili Quindi questo è un grosso problema Sta creando Diciamo delle complicazioni Un po' a tutti i player Anche quelli bravissimi Quindi c'è solo da abituarsi un pochino Certo è che Comunque sia dal punto di vista dell'Aiming Quindi del mirare così È un qualcosa che velocizza moltissimo il gioco Cioè adesso Questa cosa In combinato con il movimento più fluido del soldato Come vedrete anche dai clip sottostanti Ragazzi è molto facile Correre e sparare Correre miro quello e sparo Mi giro a sinistra miro quello e sparo È tutto un po' più veloce e più fluido Quindi magari Il gioco si sposta un po' Dal lato tecnico Quindi dal saper controllare recoil Al lato aim Dal saper mirare Dall'essere veloce Dall'essere un giocatore Conestro insomma Diciamo Quindi ragazzi Lo spread e il recoil Ci sono Cioè sono identici a prima Magari qualcosa è cambiato Aspetteremo simpti Come ho già detto Ma vi assicuro che ci sono Non sono spariti Semplicemente si vedono Molto meno E voi dovete abituarvi Un po' a questa nuova Situazione legata al recoil Ecco c'è una cosa però interessante Che esce fuori da questa patch Adesso tutte le armi Che erano un po' scomode Da utilizzare Perché avevano una componente Molto accentuata Del recoil Sull'asse orizzontale Adesso sono Molto 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 meglio Cioè F2000 FAMAS Ma anche armi Con ROF più basso Tipo l'AUG Sono molto più belle Ragazzi Più belle da utilizzare Perché Veramente Sto mirino C'è da dire Che oscilla Quasi mai A destra e sinistra Però ripeto Dal punto di vista Of spread State attenti Quando utilizzate le armi Con ROF elevato Con fire rate elevato E ROF sarebbe Per rate of fire Già lo so che qualcuno Ma che cacchio State attenti Perché comunque sia Cioè Il conno dei proiettili Si apre come prima Quindi occhio Un'altra considerazione Che dobbiamo fare Riguarda invece I fucili a pompa E i check-in ragazzi Perché Dal momento in cui Tutte le armi automatiche Fanno meno danno Sia short range Che long range Cioè ci vuole Un item più Comunque per killare Il nostro avversario Beh cavolo I fucili a pompa E i check-in So come prima Quindi Da vicino Un pompa È molto più difficile Da sostenere Perché comunque sia Il vostro avversario Con il pompozzo Può assorbire Una pollotta La in più Prima di andare KO La stessa cosa Vale per L'aggressive Rigon di turno Quindi È un po' più facile Andare in giro Con i fucili a pompa Se non dovete restare Nessun compagno E decidete di fare Più kill possibile Una partita O giocare in uno spot Molto aggressivo Soprattutto Close combat Prendete il mass E vedete che vi divertite Manco poco Quindi insomma Niente ragazzi Come vi ho già detto Farò altri video Magari diciamo In errori diversi E più dettagliati Su alcune cose Comunque Adesso il gioco Da ora in poi Il gioco sarà così Quindi ripeto Rivisiterò parecchie cose Le armi Ho aspettato a trattarle Proprio perché sapevo Che sarebbe uscita Come tutti Del resto Questa patch E il prossimo video Però sarà dedicato Visto che me l'avete chiesto Ai settaggi Che sono diventati In amare adesso I settaggi In opzioni avanzate Che trovate Relativi a tutto L'ad La gestione di queste cose qui E poi ci sono anche Altre cose ragazzi Da dire In merito A quello che si può fare Col mouse Col fove Come vi ho già detto Quindi sicuramente Il prossimo video Sarà dedicato A questi settings Ragazzi anche per oggi è tutto Se vi va lasciate un like E come sempre ci becchiamo qui Su Xeco Official Per un altro di questi video